Rischio di incendio a bordo per oltre 7 milioni e 400 mila auto della Toyota. Il colosso giapponese richiama tutti i modelli Corolla e Camry venduti sul mercato mondiale. La casa automobilistica ha fatto sapere che il problema riguarda il sistema elettrico di apertura dei finestrini. Ritorneranno in concessionaria oltre 2 milioni e 400 mila auto negli Stati Uniti, 1 milione e 400 mila in Cina e altrettante in Europa. In Giappone le vetture richiamate sono 459 mila. L'azienda automobilistica non è nuova a questi imprevisti. In passato è stata costretta a ritirare oltre 10 milioni di autovetture per problemi ai freni o al software dell'impianto frenante, con grave danno alla sua reputazione di affidabilità.